Ok, io credo di avere fatto un haul di una delle cose più inutili che io abbia mai fatto vedere nei miei video haul di tutta la storia del mio canale perché questa veramente secondo me è la cosa più sciocca che io abbia mai comprato però è una cosa che volevo da tanto e quindi niente, ora che la vedo sono contentissima prima di iniziare vi ricordo che se volete potete seguirmi sui social, soprattutto Instagram e se volete iscrivetevi al mio canale e sotto comunque trovate i link per Instagram e per Facebook dunque, sapete che io amo il lato artistico degli anime e dei manga nel senso che mi piace disegnarli, adoro le parrucche colorate, adoro creare anche su Instagram foto magari anche un po' con sfondi un po' surreali, insomma adoro il mondo della fantasia soprattutto Disney, vabbè, Disney è proprio un mondo a parte e io lo amo per quanto riguarda gli anime e i manga, io in realtà non seguo, non conosco personaggi, storie, fumetti, cartoni, no però mi piace il loro look, mi piace i loro costumi e quindi ho voluto comprare il mio primo costume cosplay sapete che io anche tutti gli anni vado a Luca Comics proprio perché mi piace passare una giornata immersa in questo mondo e mi piace passarla circondata da tutti questi cosplayer bellissimi e quindi ho voluto comprare il costume anche io e il personaggio che io ho scelto è Rem vi metto anche alcune foto e io ho fatto un confronto tra queste foto e il costume che mi è arrivato ed è praticamente identico è un costume fantastico pieno di dettagli l'unico mio dubbio è la taglia perché come accade sempre non esiste XS quindi ho preso la S ma già solo anche vederlo così a me sembra veramente molto grande sembra quasi una M lo vedo veramente enorme comunque poi lo proviamo tutto insieme e vediamo come mi sta io inizierei dalla cosa che più mi piace di questo personaggio e cioè il look dei capelli la parrucca mi piace tantissimo e quindi io ho mandato a prendere proprio la parrucca di Rem che però mi era arrivata con dei dettagli che non mi convincevano dettagli che poi invece ho trovato molto migliori con insieme al costume però per fortuna che la parrucca comunque l'avevo presa allora io per il momento non ho provato nulla ho solo lavato il vestito perché vabbè non mi andava di metterlo senza lavarlo quindi ho solo lavato il vestito qui c'è la vetina per mettere la parrucca e quindi non ho provato nulla nemmeno la parrucca allora questa è la parrucca a me il caschetto ora ok andrà anche pettinata però ecco comunque la parrucca è un semplice caschettino celeste adoro questo colore io non ce l'ho celeste ce l'ho viola caschetto biondo più o meno con i codoni e comunque altre parrucche azzure ce l'ho provato solo in intenso blu e quindi questo è il caschetto carinissimo che va sistemato però con un apposito cerchietto un fiorellino qui da una parte e delle due mollettine qui per il resto dovrebbe comunque coprire un pezzo di occhio come si vede appunto dalla foto questa parrucca mi è arrivata con questa cosa che sinceramente non mi convinceva perché non era minimamente uguale alle foto per cui mi convinceva sì e no per quanto riguarda le mollettine ok quelle io ce l'ho però questo sinceramente non somiglia proprio alla foto e quindi un po' così invece insieme al costume mi è arrivato il cerchietto che come vedete è identico al disegno mi sono arrivate questi due appunto fiocchetti da mettere da parte e sono identici allora io ho scelto la versione questa celeste però ho visto che c'è anche la versione rosa e ho fatto un'idea in mente da fare con photoshop che non vedo allora quindi mi sono arrivati questi e più c'erano anche le due mollette sia rosa e sia azzurre per tirare appunto tirare via mezza frangetta e quindi per quanto riguarda la parrucca sono wow perché sono veramente accessori identici al disegno veniamo al costume che ha allora queste due maniche che si devono appunto mettere fino a qui e sono queste che sono già di per sé stupende secondo me bellissime poi c'è il fiocchettino da mettere dietro in vita e questo mi dà una speranza che io possa riuscire a stringere un pochino il vestito in vita il collare con fiocchettino e soprattutto il super super costume bellissimo che ha queste striscioline nere che si devono incrociare dietro nelle spalle e come vedete è bellissimo ha questa specie appunto di coda tipo frac ed è carinissimo cioè è veramente identico al disegno però appunto è un pochino grande secondo me comunque ora lo proviamo subito l'unica cosa che mi manca sono le calze bianche autoreggenti che dovrò prendere per il resto è tutto bellissimo la meraviglia cioè ma quanto è bello indossare questi abili e purtroppo non ho né le scarpe né le calze autoreggenti provvederò ma a parte questo cioè questo costume è qualcosa di incredibile e mi sta pure bene allora ovviamente la cosa che io stra adoro è la parrucca e sono riuscita ad acconciarla vabbè non è che ci volesse chi sa cosa però come insomma il personaggio e niente è troppo troppo carina e il caschetto è perfetto ma anche il costume l'unica cosa è che non sono riuscita a far passare questi nastrini neri negli appositi qui i gancettini non ce li ho fatta da sola quindi dovrò mettere il vestito su una stampella e provarci ma per il resto è bellissimo cioè è fantastico è preciso anche qui credevo di non riuscire a riempirlo ma invece mi sta proprio a pennello è troppo troppo carino cioè sembro proprio questo personaggio incredibile è bello indossare queste cose mi piace un sacco mi sta un pochino largo l'elastico delle maniche però a parte questo per il resto avessi avuto anche le calze sarebbe stato perfetto però il vestito di per sé è proprio fatto benissimo è ricco ricco di dettagli qui ho il fiocchetto perché queste strisce nere le ho agganciate qui davanti però a parte questo è troppo troppo carino cioè è bellissimo e anche la perrucca è fantastica quanto mi piace quanto mi piace io praticamente sono pronta per il Luca Comics se non fosse per il Covid io sarei pronta per il Luca Comics una volta prese anche le apposite calzette e le apposite scappe cioè troppo bellissimo vi lascio nell'info box il link su Amazon dove ho preso sia la parrucca e sia il vestito perché se vi può interessare cioè avete visto che è preciso è perfetto è rifinito tantissimo è proprio proprio bello top grazie per aver guardato questo video e aver condiviso con me questo acquisto completamente inutile ma che mi permetterà di fare un po' di foto carine per Instagram e quindi noi ci vediamo al prossimo video e ci vediamo su Instagram dove me la quando seguitemi perché vedrete tutti gli esperimenti che farò con questo mio nuovo bellissimo costume ciao e alla prossima ciao